La presenza dei lupi all'interno del parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli è nota da tempo. Molti di questi esemplari sono monitorati attraverso radiocollari, ma l'avvistamento riportato da un utente di un gruppo Facebook sposta di molto a ridosso di Viareggio il loro territorio. L'utente riporta infatti di aver visto tre giovani esemplari sul viale Europa, dietro al ristorante Onda Marina in Darsena, intorno al luna di notte di sabato. Tre esemplari dunque che si sono poi diretti nella Pineta in direzione di Torre del Lago. Già negli scorsi anni ci sono stati avvistamenti di lupi sul sentiero retrodunale della Lecciona e questa ulteriore testimonianza, ovviamente sempre da verificare, ne conferma la presenza anche nelle aree marginali del parco di San Rossore. L'ente parco, nella campagna di monitoraggio avviata negli scorsi anni, ha sperimentato dei particolari collari che rilevano la presenza dei lupi soprattutto nei paraggi di allevamenti o in zone abitate, recinti virtuali che sono in grado di avvisare per tempo in modo da evitare contatti con animali domestici o capi di bestiame.